Cari sorelle, cari fratelli, con la festa del battesimo del Signore si chiude il tempo di Natale e continua il tempo dopo l'epifania, cioè epifania della manifestazione del Signore che durerà per tutta la storia. Il battesimo al Giordano di Gesù segna l'inizio della sua cosiddetta vita pubblica. Gesù comincia a manifestarsi al suo popolo dopo che nel battesimo riceve dal Padre la sua vocazione messianica. La voce dal cielo dice questo, questi è il figlio mio, l'amato. E se noi guardassimo sulla Bibbia, le Bibbie che hanno di fianco le citazioni, troveremmo un riferimento al capitolo 42, al versetto 1 di Isaia, cioè l'inizio del primo canto del servo del Signore. Infatti molti codici che riportano il Vangelo di Matteo utilizzano un termine greco che vuol dire contemporaneamente figlio e servo. La vocazione di Gesù è quella di essere il figlio, servo, amato dal Padre, affinché tutti ci riconosciamo figli nel figlio e servi nel servo. Gesù comincia dal battesimo a prendere coscienza appunto della sua vocazione. E battesimo, che significa immersione, vorrà dire che Gesù comincerà ad immergersi nella sua vocazione comprendendo giorno per giorno che cosa significhi per lui essere figlio e servo di Dio Padre, fino a quella piena epifania, quella piena manifestazione che sarà la sua morte in croce. Ecco perché nel giorno dell'epifania, nelle sante messe, viene dato l'annuncio della data della Pasqua. E anche noi siamo chiamati ad immergerci nella continua epifania del Signore che ci viene incontro in questo nuovo anno e metterci in ascolto della sua coscienza obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Tante volte si dice, si sente dire, che dobbiamo ascoltare la nostra coscienza. Ma per noi non è così. Siamo invece chiamati a metterci in ascolto e a seguire la sua coscienza, la coscienza di Gesù, per conformare l'unicità nostra del nostro cuore al suo e convertirci alla logica del Gesù figlio, servo, umano, che è quella logica che dicevamo all'inizio di questo tempo, del tempo di avvento, del tempo di Natale, del dono di sé. Come abbiamo infatti ripetuto tante volte in queste domeniche, è una logica quella del figlio, servo, opposta a quelle del mondo, all'arroganza e alla prepotenza dei grandi imperi, dei grandi dominatori. È un cammino affascinante e salvifico, che ci fa crescere come figli e fratelli e sorelle amati dal Signore.